A Piazza Giordano Bruno, per fare un esempio, sarà possibile misurare in sforzo fisico su una cyclette quanta energia serve per ricaricare un cellulare e quella sarà solo una delle cinque piazze nelle quali si articolerà la sezione Scienza in piazza, quella dedicata alla divulgazione al grande pubblico, di Gubbio Scienza 2017, l'evento che farà di Gubbio per dieci giorni dal 30 giugno al 9 luglio, la straordinaria sede di conferenze internazionali, incontri formativi per le aziende di Umbra e Marche, attività aperte al pubblico e di un'International Summer School, annunciati i nomi di spicco del mondo universitario e scientifico nazionale e internazionale, riuniti per confrontarsi sul tema della microenergia e delle energie rinnovabili. Un evento fortemente voluto dal Comune con l'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e con la partecipazione di Psi Quadro, Wise Power e Post. L'idea era quella di mostrare alla città e al territorio che cosa potesse essere avere un polo scientifico qui in questa zona. E allora abbiamo pensato quale migliore occasione di non usare l'estate per mostrare quale potrebbero essere gli eventi associati all'esistenza un polo scientifico. Per questo abbiamo organizzato una conferenza internazionale, si chiama Micro Energy 2017, abbiamo organizzato una Summer School internazionale per studenti che verranno da tutto il mondo, una Summer School dedicata a studenti post laurea, quindi persone già mature, già avviate nel settore della ricerca. Poi abbiamo organizzato una festa della scienza con exhibit, con caffè scientifici, conferenze, concerti che abbraccerà tutti questi dieci giorni. Ma abbiamo pensato anche alle aziende, quindi abbiamo pensato una serie di iniziative volte proprio a quello che si chiama il trasferimento di conoscenza e per questo abbiamo invitato aziende del territorio, ma anche aziende nazionali e internazionali a incontrarsi insieme qui a Gubbio. Un progetto importante che si inserisce nel solco di una sinergia consolidata con l'Università di Perugia, ha detto il sindaco Stirati. Questo tema delle energie di tipo avanzato, evoluto, le nanoenergie e quant'altro, rappresenta anche una grande opportunità di sviluppo perché sappiamo che oggi molte imprese, molte nuove forme di impresa si orientano proprio su una nuova idea di economia, di sviluppo e anche appunto di sostentamento energetico. Un evento multiforme articolato in quattro sezioni dunque, dal 3 al 7 luglio, al Centro Congressi Santo Spirito, è in programma un convegno scientifico internazionale sulle microenergie, mentre negli stessi giorni un nutrito gruppo di studenti potrà seguire lezioni in inglese tenute da scienziati europei e statunitensi. Ma Gubbio Scienza 2017 scenderà anche in piazza dal 1 al 9 luglio, con attività aperte al pubblico, tutte gratuite. Pensate per bambini, ragazzi appassionati e curiosi, elencati da Leonardo Alfonso di Psiquadro. Pensate inoltre attività specifiche il 7 luglio che faranno incontrare il mondo scientifico e le aziende del territorio, come ha ricordato Valentina Bacchettini di Wise Power. Gubbio Scienza 2017 vuole essere una tappa propedeutica alla realizzazione di un progetto ancora più ambizioso e corposo, quello della costituzione di un polo scientifico vocato alle micro e nano energie per l'uso domestico e l'alimentazione di dispositivi elettronici portatili. Polo scientifico che passa attraverso la realizzazione di un centro di ricerca, ma il progetto prevede anche un centro di alta formazione e un centro di divulgazione scientifica con la creazione di un museo della scienza, oltre a un incubatore di impresa. Scadenza temporale la fine dell'anno e Gubbio terrà di mezzo tra 5 università di eccellenza può rappresentare il valore aggiunto. Progetto ambizioso dunque che attende contributi da tutti i livelli. Bisogna dire che il progetto è estremamente ambizioso e solo pensarlo fa tremare i polsi, però l'idea è che se non ci proviamo ora, se non ci proviamo qui, quando mai lo faremo? Abbiamo secondo noi le risorse intellettuali, le capacità imprenditoriali per farlo? È necessario coinvolgere una vasta platea di partecipanti che vanno dalle istituzioni e su questo il Comune di Gubbio sta facendo veramente la sua parte, ma anche i comuni del territorio vanno coinvolti, ma anche la regione Umbria e la regione Marche devono dare la loro parte. Poi le università, abbiamo 5 università che insistono in questo territorio e che hanno già dichiarato il loro interesse. Infine le imprese e l'opinione pubblica.